Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano 4 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze in Pluneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano VI Fiorentino e Il Vivio con la variante del Valico. In direzione Roma invece code a tratti tra Aglio e Calenzano VI Fiorentino e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Di nuovo in direzione Bologna ma a causa di materiali dispersi rallentamenti tra Barberino, Di Mugello e Aglio. Passiamo alla FIPILI dove a causa di lavori si segnalano 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!